Buongiorno e bentrovati. Oggi è il 2 novembre, giornata tradizionalmente dedicata alla commemorazione dei defunti. Siamo andati nei cimiteri di Catania e a Cireale, dove l'accesso si è svolto in maniera regolare, ma a Catania si pensa al futuro. Il Camposanto presto potrebbe dotarsi di servizio di cremazione delle salme. È attivo in Sicilia, soltanto a Messina. Mario Grasso. Un mazzo di fiori, una preghiera, le cerimonie ufficiali che ricordano i caduti. I cimiteri nel giorno del 2 novembre sono la rappresentazione plastica dell'attaccamento alle radici con chi ha costruito e che oggi non c'è più. Un viavai di persone che riempie i viali degli a meno i luoghi e che libera i ricordi spesso sbiaditi dal tempo. Catania, Cireale, Giarra, Cicatena, Riposto, Mascali, Fiume Freddo, Calatabiano, Tre Mestieri, Gravina, solo per citare alcuni centri, nulla è diverso innanzi alle tombe se non le emozioni intime di chi attraverso la foto un semplice epitaffio si rituffa nel tempo che fu. Enorme affluenza al cimitero di Cireale oggi, il più grande dell'Interland acese, dove però chi è andato a trovare i propri cari, lo ha fatto autonomamente per l'assenza dei bus e navette assicurati per anni dal comune, ma che spesso viaggiavano vuoti. Anziani, famiglie, giovani, tutti accomunati dall'emozione del ricordo anche a Catania, al cimitero dei Tre Cancelli affollato come non mai. All'esterno le coda al traffico sono state inevitabili, però limitate dai collegamenti sia su rotaia che su gomma disposti per l'occasione dal comune. Un servizio particolarmente apprezzato, così come un servizio particolarmente richiesto potrebbe finalmente avere luce, non in tempi brevissimi, ma celeri. Stiamo parlando della cremazione della salma, servizio in Sicilia assicurato oggi solamente a Messina, anche per i restanti comuni dell'isola, con costi però esorbitanti per il trasporto, ad esempio. Ebbene, nel nuovo cimitero comunale, ipotizzato dal comune di Catania, il servizio di cremazione delle salme sarà uno degli elementi caratterizzanti della nuova area cimiteriale. La cremazione è uno dei progetti a medio breve termine di questa amministrazione. L'ho inserita all'interno del progetto di finanza presentato per il nuovo cimitero, che avrà i suoi tempi, dovrà passare al Consiglio Comunale, ci sarà la gara, ma in ogni caso ho la proposta alternativa di farla al cimitero, quello nostro, quello che attualmente abbiamo. È comunque, ripeto, un progetto dell'amministrazione che avrà una sua fine. Quindi lo dico alla città, lo dico a chi eventualmente vuole avere questa opportunità, che la cremazione sarà una realtà, ripeto, a medio termine, qualche anno, credo in un biennio, di poter dire che avremo anche questo servizio. Il cimitero di Catania è stato preventivamente sottoposto a opere di manutenzione straordinaria ed è rimasto aperto nella giornata dell'1 e 2 di novembre, ma lo sarà anche domenica 3 novembre, fino alle ore 13, mentre le confraternite chiuderanno alle ore 12. Nelle diverse aree sono stati posizionati 30 bagni chimici, inclusi 4 bagni per diversamente abili, oltre ad ambulanze e mezzi di emergenza, dislocati nei punti strategici per gli interventi di soccorso. Tutte le informazioni sugli eventi relativi alla commemorazione dei defunti sono disponibili, peraltro nella home page del sito internet del Comune di Catania, in un apposito link commemorazione dei defunti. E poi ci sono le tradizioni legate a questa giornata, tra queste quella dei regali lasciati ai più piccoli, dai parenti che non ci sono più. Cambiano i tempi, ma non le usanze. Una volta c'era l'attesa, adesso genitori e nonni si presentano ai negozi di giocattoli con tanto di lista in mano. Sentiamo Guenda Garozzo. Tricicli, trottole, bambole, più o meno alla moda, trenini, accanto i giochi tecnologici, supporti digitali che stimolano sempre più le nuove generazioni. Anche i morti si adeguano ai tempi moderni e se prima i doni lasciati simbolicamente da chi non c'è più, erano una vera e propria sorpresa e tutto era apprezzato. Oggi i genitori e nonni si presentano ai negozi di giocattoli con delle vere e proprie liste compilate dai piccini. Di tutto punto, guai a sgarrare, si è persa quella attesa che caratterizzava gli animi dei bambini al risveglio del giorno della commemorazione dei defunti. Nonostante i bimbi stamattina al risveglio abbiano trovato i giochi, c'è ancora qualche ritardatario che ne approfitta. Quali sono i regali che vanno per la maggiore? Per la maggiore vanno molto il pubblicizzato, dalla bambola alla Barbie ad arrivare fino alla casetta per esterno, qualche macchina elettrica e anche le costruzioni, quelli non sono passati di moda. Ci sono dei giocattoli, ecco lei parlava delle costruzioni ma anche i trenini, non so, le trottole. Queste sono tornate, cioè non sono mai passate di moda. Noi ce l'abbiamo, abbiamo diverse linee a partire dal trenino dalle 10 euro fino ad arrivare alla somma che il cliente vuole spendere. E poi c'è il regalo di alta tecnologia perché oggi i ragazzi, i bambini soprattutto sono sempre più stimolati dal digitale, allora al via con tablet, giochi interattivi di una certa importanza. Sì, l'area digitale ha preso piede negli ultimi anni, noi siamo attrezzati per venire incontro al cliente. Questa prende però una parte di clientela dai sei anni in su, almeno i bambini più piccoli li facciamo giocare ancora con le loro capacità creative. Vista la vostra esperienza da anni nel mercato avete notato una flessione nella spesa di chi acquista? È normale, negli ultimi anni la spesa si è ridotta però uno deve essere sempre pronto a soddisfare la richiesta del cliente. Quindi si va dai 10 euro diciamo come cifra base per arrivare sino a quanto? Alle 50, alle 100, ormai fanno molti regali di gruppo quindi arrivano alla somma perché magari un genitore non riesce a soddisfare l'esigenza del proprio bambino e quindi sommando magari molte mamme fanno il regalo di gruppo e soddisfano la richiesta del cliente. Ma senta ma è vero che oggi i bambini sono sempre più capricciosi nei gusti e molti si presentano qua proprio con i figli a scegliere il regalo per i morti? Oggi ormai vengono nonni e genitori con le liste, non c'è più il regalo di una volta che magari qualsiasi cosa trovavamo sotto o l'albero nel periodo di natalizzo sotto per i morti e accettavamo la qualunque. L'80% viene venduto su richiesta del bambino. Una volta erano il triciclo e la macchinina a pedali dove si faticava per poter girare per i cortili di un tempo. Oggi invece le macchine, c'è un vero e proprio autosalone dedicato ai bambini di tutte le età peraltro. Sì, abbiamo questo reparto che è il reparto dell'elettrico per soddisfare i bambini perché oggi come dicevi il triciclo lo vendiamo lo stesso, però molti ormai hanno come opzione l'elettrico perché oltre ad essere una macchina è anche radiocomandata, quindi il bambino anche se non sa usare i comandi il papà lo segue col comando remoto. Vanno come faccia d'età da 1 fino a 5-6 anni e il budget di spesa non è più quello di una volta ma già con 85 euro vai a prendere una macchinina e soddisfi la clientela che vuole spendere meno. Ci sono anche delle vere e proprie jeep, già ragazzini di 8-10 anni potrebbero guidarli. Sì, abbiamo macchine 4x4 che portano un peso di 45 kg quindi i bambini dai 6 ai 10 anni vanno anche bene. E per queste la patente ancora non ci vuole. Ma tra poco anche su queste metteranno qualcosa. Stiamo sul pezzo a Catania infatti per il secondo anno consecutivo si è tenuta un'iniziativa, un format nato a Palermo proprio per coniugare le vecchie tradizioni siciliane della commemorazione dei defunti alle nuove generazioni. È andato Mario Grasso. È nato 6 anni fa come format a Palermo ma da 2 anni la piattaforma si ripete anche a Catania. Notte di zucchero è un grande contenitore del divertimento riservato sia ai più piccoli ma che fa sorridere anche i più grandi messo su in piazza Università. Questa mattina ha deliziato centinaia e centinaia di bambini promuovendo la tradizione siciliana della festa dei morti e che a Catania è stata caratterizzata da spettacoli, intrattenimento, giochi e laboratori ma anche esperienze positive di partecipazione e associazionismo. È una festa che mira a valorizzare e far riscoprire la nostra festa della tradizione, la festa dei morti che è una festa che in tanti bambini neanche conoscono eppure la notte tra l'1 e il 2 novembre si usava un tempo che i morti, le persone care che non ci sono più portavano dei giocattoli ai bambini e noi vogliamo che questa notte tra l'1 e il 2 novembre, la notte di zucchero, possa essere ricordata e valorizzata perché è un patrimonio della nostra cultura che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Quindi partiamo dai bambini per fare tesoro della nostra storia e della nostra cultura. Notte di zucchero è stata promossa in collaborazione con il comune di Catania. Abbiamo pensato a tante postazioni che potessero accogliere i bambini per giocare. Abbiamo Luna Park, abbiamo l'autobux del comune dove i bambini possono leggere dei libri insieme alle mamme dell'associazione Catania Book Party. Il comune è sempre al nostro fianco in queste manifestazioni, ha patrocinato l'evento. Poi abbiamo lo straludobux dell'associazione Talitacum con tanti giocattoli di legno disponibili liberamente per il gioco. In piazza anche Terra di Crianza con i suoi giochi in materiale riciclato. Poi ci sono tanti laboratori, tante attività creative organizzate da vari operatori culturali. C'è un laboratorio sul giocattolo di legno proprio perché il giocattolo di legno era un giocattolo della tradizione, un giocattolo che apparteneva alla nostra storia della festa dei morti e tanti altri laboratori. Abbiamo ospite anche l'associazione Reices Messicana che sta facendo divertire tanti bambini con il trucco di Catrinas, questa figura tipica del dia dello smuertos che è molto più vicino alla nostra tradizione di quanto non lo sia un'altra festa molto più popolare. Da segnalare, rigiocattolo, iniziativa a scopo di solidarietà a favore della Caritas diocesana di Catania, promossa dalla Dasti e inserita tra i vari eventi che si sono svolti questa mattina nell'ambito di Notte di Zucchero. È un bellissimo evento, siamo alla seconda edizione quest'anno dove tutti i bambini della città di Catania porteranno i loro giocattoli in buono stato per donarli ai bambini meno fortunati, bambini assistiti dalla Caritas diocesana affinché questa sensibilità venga proprio dal nascere, quindi dai bambini che crescendo matura in una sensibilità d'amore nei confronti dei meno sfortunati. Cambiamo argomento, cronaca, continuano a Catania i controlli straordinari della polizia, blitz stavolta al lungomare, ispezionati i paninari, pugno duro della questura contro i posteggiatori abusivi. Proseguono i controlli disposti dal questore di Catania della Cioppa nei confronti di gestori di esercizi pubblici, quali con comportamenti illeciti dei diritti comuni a tutti i cittadini, costituiscono un vero e proprio sottobosco di illegalità che di fatto costituisce un limite alla vivibilità della città di Catania. La notte dello scorso primo novembre la Polizia di Stato, in coordinamento con i carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, ha effettuato un capillare servizio di controllo del territorio nei pressi del lungomare e nell'area di Piazza Nettuno. Finalità del servizio, oltre al contrasto della criminalità e dell'illegalità, l'abusivismo commerciale e gli illeciti da esso derivanti. Infatti, sono stati controllati numerosi camion di paninari che con le loro postazioni mobili caratterizzano l'area scenario dell'intervento. Sono stati contestati numerosi illeciti, alcuni di natura fiscale, quali irregolarità del misuratore fiscale o la mancata emissione dello scontrino, altri di natura amministrativa, quali l'abusiva occupazione del suolo pubblico, ai sensi del codice della strada, o l'occupazione di aree nei pressi di incrocio o di intersezioni stradali che ne rendano pericoloso il transito veicolare. Il tutto per un ammontare di oltre 10.000 euro, somma che comprende anche le contravvenzioni elevate a diversi automobilisti rispettivamente sorpresi senza patente. Auto dunque sottoposta a fermo, senza RCA e dunque auto sequestrata e senza la revisione obbligatoria, oltre alle numerose soste irregolari di veicoli verificate e sanzionate a cura della polizia locale. Nel corso della stessa giornata, con il contributo del reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e sempre della polizia locale, gli agenti del commissariato centrale hanno controllato e sanzionato 5 posteggiatori abusivi che operavano in piazza Spirito Santo. Tre di loro, recidivi, sono stati anche indagati in Stato di Libertà, come previsto dal Codice della Strada, che con tale innovazione intende mettere un freno giudiziario alla manifesta indifferenza alle sanzioni pecuniari inflitte a questi sedicenti nullatenenti, ponendo sul piano penalisticamente rilevante le condotte reiterate. Durante lo stesso servizio è stato fermato anche un'automobilista che guidava senza patente, un'autovettura senza assicurazione e senza carta di circolazione al seguito. Il veicolo è stato sequestrato e contemporaneamente sottoposto a fermo amministrativo e sono state combinate sanzioni per oltre 6.000 euro. Restiamo a Catania, nel quartiere di San Berillo Vecchio, dove un gruppo di cittadini, di residenti, ha ripulito stamani le strade della zona. Questo quartiere, che nei giorni scorsi, lo ricordiamo, è stato oggetto di un'operazione antidroga, non è una casba, dicono. Sentiamo Mario Grasso. Basta screditare il quartiere di San Berillo Vecchio, lo chiede un gruppo di cittadini che questa mattina si è recato proprio tra le vie del quartiere catanese, a metà tra la Movida e la City di Catania, per uno dei massicci interventi di pulizia degli spazi pubblici che gli abitanti del quartiere mettono in atto regolarmente e autonomamente. San Berillo, però, balza spesso agli onori della cronaca per motivi ben diversi, principalmente per la storia legata alla prostituzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti. In un'ultima, l'operazione della Polizia di Stato, che proprio alcuni giorni fa ha bloccato alcuni spacciatori di origine per lo più gambiana, proprio tra i vicoli dell'antico quartiere. Chi questa mattina ha voluto ripulire San Berillo, ha voluto però sottolineare come proprio queste attività abbiano eco poco adeguate e che non rendono omaggio alle persone che vivono e lavorano a San Berillo. Ma è un quartiere popolare come un altro all'interno della città. Il guaio di San Berillo è che sta vicino alla movida del resto della città e che è oggettivamente degradato. Il problema di San Berillo è, da un lato, che di San Berillo si parla soltanto dall'esterno. Cioè, chi vive a San Berillo e ci lavora non ha occasione di parlare e si vuole che non ce l'abbia. Il problema di San Berillo si è il degrado, però il problema è che dall'esterno della città, non solo con i blitz, ma anche finora con i discorsi che sono stati fatti anche dalla stampa, si fa passare secondo noi una versione sbagliata del degrado. Il degrado bisogna combatterlo colpendo chi lo crea, non chi lo subisce il degrado. Certo, a San Berillo, fuori di metafora, allo spaccio c'è, come c'è in tutta Catania. Il problema di San Berillo è che, quando si parla di San Berillo senza interpellare i diretti interessati, si parla solo e soltanto dello spaccio. Io credo che, se ci fossero migliori condizioni di vita, probabilmente la gente spaccerebbe di meno. Quindi questo è il discorso. Cioè, esiste il problema dello spaccio, ma non è il problema di San Berillo. Il problema di San Berillo è esattamente l'abbandono, il degrado e soprattutto quelle che io chiamo calunnie. Cioè, parlare di San Berillo da fuori. Perché in San Berillo magari si vede soltanto un investimento. Oppure, nella mia personale opinione, magari l'idea di poter fare campagna elettorale o di fare operazioni sensazionalistiche. Per esempio, senza entrare nel merito effettivamente dell'operazione di polizia che c'è stata martedì. Il punto su quell'operazione è duplice. Da un lato l'operazione, come avviene sempre, ha colpito a tappeto gli abitanti. C'è gente che lavora, che ha perso i propri strumenti di lavoro. C'è gente che aveva i propri effetti personali per strada perché non ha un'altra casa che li ha visti distrutti o sottratti. L'altro problema è che è un'operazione per cui sono stati spesi a occhio migliaia di euro data la presenza di uomini e mezzi, ma che sostanzialmente, secondo noi, non ha raggiunto il suo scopo. Nota dolente, secondo chi oggi è sceso in strada a San Berilio, la pulizia degli spazi pubblici. Qui, per esempio, la Dasti non passa. Noi l'abbiamo vista ultimamente soltanto in occasione di un altro blitz a supporto della polizia per prendere gli effetti personali di alcuni ragazzi che vivevano per strada, tende, materassi e oggetti di lavoro e buttarli nei cassoni. Qui puliscono gli abitanti stessi del quartiere e del circondario. C'è chi viene anche dalla fiera o dalle zone limitrofe, ma per esempio io vivo il quartiere, nonostante io non ci dormo, ma io lo vivo. Puliscono gli abitanti del quartiere e del circondario, coloro che lo frequentano effettivamente e lo puliscono autonomamente con i mezzi che hanno. Sulla pulizia della zona abbiamo sentito l'assessore all'ambiente del comune di Catania, Fabio Cantarella, vi proponiamo l'intervista. Assessore Cantarella, ma il servizio di igiene ambientale è assicurato o no a San Berillo Vecchia? Assolutamente sì, è espletato quotidianamente. Facciamo lo spazzamento meccanizzato su via Coppola e via di prima, lo spazzamento manuale dalle 6 alle 12 in tutte le altre viette interne. Peraltro in quella zona abbiamo un sistema di raccolta, è quello del porta a porta. Peccato che non lo rispettino mai e siamo costretti a raccogliere rifiuti di ogni tipo perché nessuno rispetta il calendario e nessuno mette il sacchetto fuori secondo quelle che sono le regole del porta a porta. Peraltro i nostri operatori molto spesso vengono ostacolati nella pulizia perché spesso soggetti extracomunitari li invitano ad allontanarsi o amico vieni dopo, vieni dopo, vieni dopo, si ostacolano in tutti i modi i lavori di pulizia e peraltro troviamo le strade piene di urina, feci, questo quotidianamente. La pulizia viene al mattino, però capirete bene quello che accade poi fra il pomeriggio e la sera in quelle zone e quindi non è facile pulire e non è neanche giusto pulire ogni volta che viene sporcato. Passerebbe un messaggio sbagliato, peraltro mi segnalano che più volte abbiamo fatto bonifiche di quelle aree ma c'è una resistenza proprio a rispettare le regole più elementari e vorrei anche ricordare che lì si tratta anche di soggetti che per il 99% non pagano neanche la tassa dei rifiuti quindi beneficia di un servizio pagato dai cadanesi e poi non fanno neanche il porta a porta e hanno il coraggio di lamentarsi dei rifiuti che loro stessi non dovrebbero lasciare perché lì non ci dovrebbero essere. Voltiamo ancora una volta a pagina, torniamo ad occuparci del terremoto di Santo Stefano a quasi un anno dal sisma, la viabilità in molti dei territori colpiti stenta a ripartire la situazione più grave nella Cese dove la chiusura di molte strade determina incolonamenti e caos in altre zone del territorio. Sentiamo Salvo Couturi. Ogni maledetta giornata della settimana il traffico su una delle direttrici viarie più trafficate della Cese costringe gli automobilisti a lunghi e snervanti incolonamenti. Via San Giovanni, strada di collegamento tra i paesi etnei con l'ingresso ai caselli autostradali alla città di Cereale, oltre al vicino nostro comio, si presenta così. Dal sisma della notte di Santo Stefano che ha compromesso la viabilità su alcuni tratti stradali chiusi per il rischio uccidimento degli edifici più vecchi o i moretti perimetrali, specie quelli a secco scomposti o crollati sulla sede stradale, nulla si muove. Possibile che quasi un anno dal terremoto non si riesca a calendarezzare almeno gli interventi più urgenti. Via Cifalù, per esempio, ha subito danni marginali e con una spesa di poche migliaia di euro potrebbe essere riaperta al passaggio veicolare, decongestionando la circolazione di auto proveniente da Cicatena costretta a deviare sulla provinciale San Giovanni. Altra comunità, quella catenota colpita dal terremoto, che ha costretto le autorità a chiudere il transito in entrambe le direzioni di marcia su Via Cerelle in attesa di demolire questo vecchio edificio sventrato dal sisma dalle fondamenta. Tempi lunghi per reperire i fondi necessari, chiedere le autorizzazioni e garantire i diritti dei proprietari dello stabile, con i quali l'amministrazione catenota ha raggiunto un accordo e non senza difficoltà, facendo slittare tempi di intervento delmeno cinque mesi rispetto alla necessità di restituire la piena fruizione all'arteria da sempre snodo di collegamento principale con la vicina città di Eciliale. Forse a fine novembre, più probabile dopo le festività natalizie, dovrebbero partire le opere di demolizione dei fabbricati. La cui durata non dovrebbe prolungarsi oltre i sette giorni lavorativi. Su Via Cefalù, progetto già finanziato dalla Protezione Civile con un fondo di 28.000 euro, non si comprendono invece i ritardi negli interventi programmati di messa in sicurezza dei muri perimetrali a secco danneggiati. Abbiamo percorso la strada e la situazione, quella che vedete nelle immagini, i muretti crollati o disallineati, nulla di particolarmente complicato. Eppure nulla si muove. Il sindaco Stefano Alida, noi interpellato, ha spiegato di aver presentato i progetti per un totale di 8 lotti stradali e adesso attende le determinazioni della Protezione Civile regionale, che ha aperto un capitolo di spesa specifico. Adesso a riposto, torniamo a parlare del Cinema Musmeci, che aprirà i battenti a breve. Ultimi ritocchi alla struttura ve la mostriamo in anteprima. Oltre 200 poltroncine sostituite, i bagni ristrutturati e messi a norma, le lampade. Erano alogene, oggi sostituite da quelle a LED. All'ingresso l'odore di vernice fresca, tutto profuma di nuovo. In arrivo anche un proiettore di ultima generazione. È tutto pronto al Cinema Musmeci di riposto, da qualche giorno oggetto di lavori di ristrutturazione, dopo che la struttura di proprietà comunale è stata presa in gestione per un anno, con la possibilità di rinnovo per un altro, dietro la corresponsione di un canone mensile all'ente municipale, da Domenico Barbera. Porteremo qui tante novità per ridare alla città un luogo di ritrovo tanto apprezzato, ci spiega davanti ad una delle tante locandine che annunciano l'ormai imminente apertura della struttura. Daremo il via con una proiezione gratuita del Re Leone il giorno dell'inaugurazione. Da qualche mese ho sposato questo progetto di ampliamento, una dell'attività che io gestisco a Fiume Freddo e due perché sono stato sempre vicino in questo percorso riguardante il Cinema Musmeci della sua chiusura, favorendo già da subito la mia collaborazione con le scuole di riposto, dando una mano nei limiti del mio possibile, tant'è che ho portato i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Verga di Riposto al Cinema Maccherione per non far proprio notare quella che era l'assenza del Cinema Riposto. Ci fu un vero e proprio bando qualche mese fa per appunto riprendere questa struttura, per il momento per un anno? Assolutamente sì e per un anno rinnovabile un altro anno. Certo l'impatto che cerchiamo di dare è minimo perché la durata è di quanto limitata, perciò non posso fare quello che era di mia intenzione fare, però nell'insieme cerco di dare quel tocco di nuovo, di bello, di fresco, di pulito. Cosa avete fatto nello specifico in una settimana? Abbiamo ripreso tutto quello che era l'ingresso a livello di illuminazione, di pittura, banconi e poi il tocco all'interno della sala con la sostituzione di circa 200 cuscini che erano lacerati e consumati. Il minimo che si possa fare per tenere una gestione quantomeno nei limiti del possibile, del giusto, privo di un amplificatore, perché il REC aveva dei finali, però mancavano gli amplificatori, mancava l'audio, il cuore di quello che era, l'ho dovuto acquistare, ho acquistato questo, ho messo un proiettore di ultima generazione, un barco serie 2 di ultima generazione. Questa struttura era un punto di riferimento per i ripostesi e tornerà ad esserlo? Spero proprio di sì, il mio intento è proprio questo, ho sposato questa iniziativa un po' calpestre, perché lei capisce che per pochi anni sposare è una cosa, però chissà, con l'intento che ci sia un proseguimento e un futuro. Il cinema conserva un fascino che non muta nel tempo? Assolutamente no, io dico sempre che il cinema ha un occhio sul mondo, perché il cinema è comunicazione, il cinema dà in maniera molto sottile quelle che sono gli input, la comunicazione, perché il cinema secondo me comunica. La mia intenzione è di alzare quello che era il livello di programmazione cinematografica e portarlo, non dico ai livelli del Multisala Magherione, ma a un buon livello, un ottimo livello. L'amministrazione comunale di Acideale ha affidato a un docente dell'Università Coree di Enna la verifica geologica della Timpa, ricorderete nei mesi scorsi l'area era stata interdetta alla fruizione a causa di crolli. Il comune di Acideale affida al professor Francesco Castelli, docente di geotecnica all'Università Coree di Enna, uno studio sull'intero versante della Timpa, recentemente interessato da un blocco alla balneazione nella frazione di Santa Maria la Scala, con decreto dell'assessorato regionale a territori e all'ambiente, che ha competenza a demagnare del crollo di alcuni grossi macigni staccatesi dalla parete rotolata e ridosso delle sottostanti abitazioni. Il sistema di rieti e cavi per massi realizzato anni fa è necessita di essere aggiornato, con un piano di interventi specifico annunciato e rimandato per assenza di fondi. Le somme in somma urgenza promesse dalla Regione siciliana a seguito del crollo verificato sullo scorso settembre non sono state stanziate. Si procederà con fondi erogati in forma ordinaria con i tempi della lacunosa burocrazia regionale. Mettere in sicurezza la Timpa dal rischio idrogeologico è la priorità dell'amministrazione lì, che ha accantonato le somme necessarie per lo studio sulla tenuta del crinale e gli interventi da adottare per le messe in sicurezza propedeutici a scongiurare rischi per l'inconunità pubblica e futuri decreti di chiusura del lungomare alla balneazione e ai solarium. Castelli, un'autorità in materia profondo conoscitore della Timpa per una serie di studi effettuati negli anni passati, avrà il compito di certificare lo stato di salute della faglia lavica e indicare il tipo di contromisure da adottare. Con questo incarico noi vogliamo verificare qual è la situazione, perché sono stati fatti negli anni una serie di interventi, quindi se questi interventi sono ancora validi possiamo chiedere la riduzione del rischio e poi completare lo studio e avere quindi una verifica complessiva su tutte le zone P3 e P4 di generale, che sono tantissime. Noi non abbiamo in questo momento nessun progetto presentato nella piattaforma Rendis per ovviare a questo problema e il piano PAI dove sono previste queste aree è ormai vecchio di una decina di anni, quindi dobbiamo agire su questo perché ci sono i fondi e dobbiamo avere l'opportunità di farlo. Perché abbiamo scelto l'Università Corea? Perché è importante anche questo passaggio? Perché la persona che dovrà seguire questi studi è il professore Castelli, che è un ingegnere geotecnico esperto sulla timba perché ha fatto già dei lavori con il professore Mauggeri a suo tempo e quindi conosce bene l'ambiente in cui andrà a operare. I fondi, il costo di questa operazione è di 18.400 euro che noi abbiamo recuperato riducendo i compensi all'amministrazione perché questa qui è una cosa molto importante e quindi riteniamo che sia una spesa primaria da affrontare. Lo studio degli esperti si combina con i consolidamenti degli anni 90 e 2000 su cui ha la piena competenza il Dipartimento del Genio Civile di Catania, sezione rischio idrogeologico retto dal geologo Giuseppe Filetti che ha sviluppato ricerche di settore. In regime d'urgenza non riescono a trovare le fonte di finanziamento per cui si devono trovare fondi ordinarie di finanziamento e questa sarà un po' più lunga la procedura per il consolidamento dell'ultima frana che si è concretizzata, si è verificata sulla timba. Ricordiamo che c'è anche un blocco alla balneazione che quest'estate ha fatto tribolare un po' le attività commerciali, soprattutto le piattaforme. Se non si mette in sicurezza la timba il problema si ripeterà il prossimo anno. La situazione è meno drammatica di quanto si pensi, nel senso che, come ho detto già più volte, la timba è stata in gran parte consolidata, abbiamo delle protezioni rispetto a 25-30 anni fa notevoli, molto più rassicuranti e che però non hanno trovato un recepimento nella normativa e per cui non c'è stata la declassificazione del rischio. Bisognerebbe fare anche a seguito di questa convenzione che il Comune da Ciriale farà con l'Università di Enna, con la Core, si potrà fare anche un lavoro di tipo normativo con cui derubricare in modo fondato il rischio, ma in modo fondato nella sostanza. Non ci sono notizie dell'ultima ora, non abbiamo dunque null'altro da aggiungere. Termina qui questo appuntamento con l'informazione che potrete riseguire su internet, sul nostro sito all'indirizzo reitv.it, ma anche su Facebook e su YouTube. Vi lascio adesso al meteo e poi alla programmazione della rete. Un nuovo appuntamento in diretta con l'informazione questa sera alle 19.45. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti voi. Appuntamento con il meteo, le previsioni del tempo in Sicilia di domenica 3 novembre. Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con associate precipitazioni anche a carattere temporalesco. I venti saranno deboli, i mari calmo, il tirreno, mossi, lo ionio e il mediterraneo. Le temperature oscilleranno da 11 a 25 gradi, a Catania e nell'Interland 17 gradi la minima, 24 la massima. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti voi.